Amici e amiche di Vivi Casa Giove, buonasera. Eccoci nuovamente insieme per la seconda puntata della rubrica culinaria che stiamo curando. Questa sera ci troviamo in un luogo diverso dalla relazione. Infatti abbiamo ricevuto ospitalità dalla nostra cuoca e amica Alex e ci siamo trasferiti a casa sua. Ciao Alex! E' intercorso un po' di tempo dalla prima puntata. In primis voglio ringraziarvi per l'interesse e la curiosità che ci avete dimostrato seguendoci in tanti. Questa sera vogliamo sorprendervi. Perché? Perché il piatto che abbiamo scelto è qualcosa di originale ed è una sorpresa perché non è un piatto italiano, giusto? Infatti possiamo confermarlo dall'antica ricetta che abbiamo in lingua originale infatti è scritta in tedesco. Il piatto ha origini ungheresi e però è diffuso anche in Germania soprattutto nella zona della Baviera perché è bene precisare che Alex l'ha vissuto per un po' di anni in Germania quindi oltre alle tipiche ricette italiane ha anche conservato delle ricette tedesche e quindi di Baviera, no? E noi vogliamo proporvera, speriamo di accontentarvi. Ve lo citiamo innanzitutto diciamo come si chiama? Gulasch? Sì. Sicuramente la tua pronuncia tedesca sarà migliore della mia, non ho mai studiato tedesco. Sì, gulasch. Gulasch, non ha detto bene. Gli ingredienti principali. Allora, noto cipolla, cipolla, prosciutto di maiale, peperoni, salsa, pomodoro, pomodoro pelati, ok, concentrata di pomodoro, olio e poi delle spezie, paprika, pepe e sale. Come prima cosa versiamo nel tegame 4 cucchiai di olio extravergine di olivo, è giusto. Ok, prendiamo la cipolla? No, no. La carne? La carne. Soffriggiamo un poco, facciamo soffriggere il maiale. Dopo aver fatto rosolare un po' il maiale, aggiungiamo la cipolla. Ok, amalgamiamo bene gli ingredienti tra loro. Adesso si gira accuratamente. Devo cuocere un po' la cipolla. Deve cuocere un po' la cipolla. Arrivata a questo punto, dopo aver fatto rosolare la carne e aver aggiunto la cipolla, uniamo i peperoni all'interno del composto. Uniamo i pelati al composto. e saliamo anche e passiamo anche alla salatura. Aggiungiamo un po' di pepe. Ok, aggiungiamo anche le spezie, quindi il pepe e la paprika. Aggiungiamo due cucchiai di conserva di pomodoro e giriamo tutto. Dopo aver aggiunto tutti gli ingredienti, lasciamo cuocere il composto per circa 30 minuti. Il pepe è quasi pronto e si sente già un bel profumino. Aggiungiamo tre cucchiai di panna. Da cucina. Da cucina, giusto. Amalgamiamo il tutto. Per ottimizzare i tempi abbiamo già messo l'acqua a bollire. E caliamo il riso. Il riso, giunto a cottura, è pronto per essere scolato. I piatti sono a tavola. Anche la tavola è imbandita in maniera bavarese. Infatti abbiamo anche il pane tedesco nero, la birra. Il direttore e il suo vice sono già a tavola per l'assaggio del piatto. Spero che abbiano destato la vostra curiosità e che proviate il piatto che noi abbiamo preparato. Ora attendiamo il risponso da parte dei nostri amici. Un saluto a tutti e grazie per l'attenzione che ci riservate. E salutiamo in tedesco, no? Tchuss! Un saluto a tutti i nostri amici.